prima era nato il litigio d'Agostino Corona Allora ma c'è ancora Fabio da Modena collegato al camionista, ma dove è arrivato Fabio? Dove sei arrivato col camion? Castel San Pietro Castel San Pietro, ormai sei a Bologna Fabio Allora com'è la storia del cambio dell'economia, delle puttane per strada? Per strada più o meno... Tu dove vai di solito? A Coso vai? Di solito vai a Binasco Ma a Binasco c'erano un sacco di prostitute per strada Che c'entra agli appartamenti? In un appartamento non si può più andare, dove non si può più andare? Giù da noi Giù da noi è pieno, a San Benedetto, a Villa Rosa E perché non si può andare in appartamento? Perché ha alzato i prezzi Cioè non si può andare nel senso che hanno alzato i prezzi? Sì, si dice parti da 70 Ma che sarebbe la parte da 70? E dipende da quello che vuoi fare Che cazzo voglio fare? E' una piccata via, che devo fare? Scusa Sì, questo è vero Ma ho capito Sì, però tu dici 70 euro è troppo per andare in appartamento No, ma lì parte da 70, quando stai lì E no, però se vuoi fare questo così Cioè tu dici che in quella zona lì da Martinsicuro i prezzi si sono alzati? Questo è il punto Sì, sì, quello che ho visto io, sì E invece andando a Binasco, zona di Binasco 30 euro Eh amico mio, significa che c'è più là E' una legge economica fondamentale, caro Parenzi I signori di Confindustria dovrebbero saperla questa cosa qua, no? Là un via vai, eh? Dove un via vai? A Binasco, dove? Eh Ma tu vai pure con i trans, eh? Eh? Tu vai pure con i trans, Fabio? No, 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 no Non ti piace, eh? No, 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 no No, 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 no Ancora mi piace le donne a me, ancora Ancora Ha cambiato la legge, nel senso che alla fine diceva che avrebbe cambiato la Fornero Invece io in pensione non ci posso andare, Fabio, no? Eh, non ci posso andare, no Quell'altro, Renzi, Renzi ha fatto la legge tre anni in meno giusurante per i camionisti Eh Vado all'assindacato Eh Sì, sì, c'è sull'Ape, c'è questa cosa Però c'è, c'è una Una postilla, sarebbe? Eh, qual è? Eh, deve aver lavorato un anno prima del 19 settembre di età Ma che cazzo di legge è? Ma che cazzo di legge è? Chi ne ha potuto soffrire questa legge? 20%, 10% Ma tutte le legge però hanno un termine di inizio e fine, purtroppo Qualcuno rimane sempre fuori A me mi hanno mandato alla scuola fino a 24 anni Che cazzo ci devo fare? Non posso fare niente Eh, lo so, ma fa un bel coso È così, ma mandali tutti a fanculo, ma che te frega Ma sì Ho lavorato due anni, se c'ho la salute, che c'ho pure un rene solo io Eh, pure un rene e vai pure a puttane, con un rene solo Che cazzo devo fare? Fino a che si arriva ci vado Quando non si arriva più faccio il fiocchetto Ciao Fabio, ciao, ciao Ciao, ciao, ciao Parenzo, ciao Ciao caro